Nell'attribuzione delle attività delle delle ho ritenuto indispensabile tenere sotto il mio diretto controllo il teatro, non come evidentemente solo stabile, ma anche come attività culturali, da un lato perché lo giudico uno dei punti salienti e ci tenevo ad avere un'impronta diretta e dall'altro per evitare qualsiasi problema di trasparenza rispetto a deleghe e persone. In questo modo tagliamo alla radice ogni discussione.